Musica Buondia a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico smanicato che ho deciso di chiamare smanicato geranio questo perché chi mi segue l'ha già riconosciuto io ho utilizzato lo stesso punto dell'abito geranio che abbiamo fatto la settimana scorsa appena l'ho fatto ma vi dico che in realtà era già in lista molti di voi mi hanno detto a questo punto sarebbe fantastico alza per una giacchetta io non ho fatto una giacchetta, ho fatto uno smanicato perché voglio utilizzarlo in estate, in pieno giorno e quindi ho deciso di non fare le maniche però potete tranquillamente fare le maniche e per vedere come fare questa lavorazione in tondo potete andare a rivedere il vestito geranio ora per quanto riguarda il filato io ho utilizzato un nuovissimo filato che mi è arrivato dell'Adrian Fil che si chiama Matita è questo gomitro da 100 grammi che misura 224 metri ed è formato da cotone e panama fantastico, guardate che splendide sfumature il colore che ho scelto io è lo 040 ma voglio farvi vedere anche altri colori che trovate sempre sul mio sito Filati Elsa di cui vi lascio il link in descrizione guardate che splendide sfumature questo è veramente particolare qui andiamo un po' su classico ma ce ne sono veramente tanti altri ora parliamo un attimo di quantitativi per poter realizzare questo smanicato che è una taglia S io ho lavorato con l'uncinetto del numero 4,5 e ho utilizzato 3 gomitoli ora per una taglia M vi occorrono 4 per una taglia L vi occorrono 5 naturalmente se volete fare le maniche dovete andare a prendere anche un gomitolo in più se invece volete farlo più corto e fare le maniche vanno bene la quantitativa di gomitoli che vi avevo detto quindi calcolate in base a come volete realizzare questo smanicato quindi con giacca più corta e più lunga quanto andare a prendere tenendo sempre presente che per fare le maniche almeno 100 gomitoli vi occorrono quindi un gomitolo in più vi occorre ora per quanto riguarda la lavorazione semplicissima perché come vi ho detto è quella del geranio che è una classica punto chevron però che ha un po' più forato rispetto proprio al classico quindi è una sua variante qui si vanno a fare gli aumenti sul sprone mentre per la parte proprio della giacca io non ho fatto alcun tipo di aumento perché non era necessario vedete comunque è venuta bella larga e morbida quindi non ho voluto fare degli aumenti ma potete andare a fare degli aumenti anche qui ai fianchi o anche più sotto per rendere la giacca ancora più largo quindi una volta fatto lo sprone il giro che va sempre ripetuto ma anche prima dello sprone quindi una volta fatto gli aumenti il giro che va ripetuto è sempre uno quindi semplicissimo detto ciò spero che anche questa creazione vi piaccia che desiderate realizzarla e se così poi come sempre mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook Uncinitando con Elsa o sul gruppo facebook La libertà di uncinitare sferruzzare in cui vi ricordo che ogni settimana diciamo quasi ogni settimana faccio delle dirette in cui anche lì andiamo a creare insieme qualche creazione però molto più semplice e veloce oppure potete taggarmi su instagram dove mi troverete come Elsa Faccio vi ricordo inoltre che io in descrizione vi metto sempre anche il link per poter acquistare il pdf della creazione dove viene scritto passo per passo come poter andare a creare anche nelle taglie più grandi detto ciò noi ci vediamo al prossimo video tutorial per realizzare il nostro spolverino io ho deciso di utilizzare il filato nuovo che mi è arrivato della trianfile che si chiama matita che è questo splendido gomitro da 100 grammi il colore che ho scelto io è il 40 ma qui voglio farvi vedere anche altri due colori uno più bello dell'altro sono fantastici che sono il numero 45 e il numero 43 ora io qui vi farò vedere un piccolo campione ma in realtà io già sto lavorando al mio spolverino adesso ve lo faccio vedere ecco qui allora vi dico già che io come catenelle iniziali sono andata a mettere 86 catenelle la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4 catenelle e a cui vanno aggiunte 6 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine io quindi ho messo 80 catenelle che sono un multiplo di 4 più 6 catenelle appunto per avere l'inizio uguale alla fine questo mi ha permesso di avere un'apertura dello scollo di circa 67 cm lavorando come vi ho detto con un 104 e mezzo qui vi farò vedere un piccolo campione ora per le taglie più grandi per una taglia M io vi consiglio di andare a mettere solo 4 motivi in più perché il dietro va bene a mellaco quindi a voi andrà bene con gli aumenti andrà largo anche voi 4 motivi in più quindi poi per avere un motivo in più sulle maniche 1 e 2 e un motivo in più per il davanti 1 e 2 mentre per le taglie più grandi quindi la taglia M andate a fare 7 motivi in più rispetto a me in modo poi ad avere un motivo in più sulle braccia 1 e 2 due motivi in più per il davanti 1 e 2 e un motivo dietro quindi ripeto il multiplo è un multiplo di 4 qui vanno aggiunte 6 catenelle io ho montato 86 catenelle consiglio di montare 4 catenelle 4 motivi in più per una taglia M quindi 4 x 4 16 catenelle mentre 7 catenelle 7 motivi in più per una taglia L detto ciò quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro come vi ho detto io qui vi farò vedere un piccolo campione in cui vi farò vedere come si vanno a fare gli aumenti e poi vi farò dirò anche come non si fanno più gli aumenti quindi andiamo a fare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta salto la prima delle catenelle di base che quindi andremo a formare la nostra maglia alta totale salto altre 2 catenelle quindi in totale salto 3 catenelle di base entro nella successiva e quello che faccio adesso lo farò per tutto il giro e vado a fare maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta salto 4 catenelle di base salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo quindi entro nella quarta e di non da fare maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo quindi entro nella quarta maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta e devo fare questo per tutto il giro quindi salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare 2 mai una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta continuo così per tutto il giro vi farò vedere come terminarlo sto per terminare il primo giro fatto l'ultimo ventaglio entro nella terza catenelle vado a fare una maglia alta mi giro con la lavorazione possiamo andare a fare il nostro secondo giro e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sa prima maglia alta non chiusa rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiude insieme entro nell'archetto e 2 catenelle vado a fare due maglie alte una due 2 catenelle rientro una maglia alta rientro vado a fare una maglia alta non chiusa salto le due maglie alte chiusi insieme vado direttamente nella maglia nella nell'archetto i due catenelle successive e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiude insieme rientro e vado a fare un'altra maglia alta 2 catenelle rientro e vado a fare una maglia alta prendo il filo rientro un'altra maglia alta non chiusa salto le due maglie alte entro nell'archetto successivo e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiude insieme rientra e vado a fare una maglia alta 2 catenelle rientro e vado a fare una maglia alta prendo il filo una maglia alta non chiusa vado nell'archetto successivo e ricomincio da capo andando a fare una maglia alta non chiusa e chiudendole insieme quindi devo fare questo per tutto il mio secondo giro quindi mai alta mai alta non chiusa vado nell'archetto successivo e di nuovo maglia alta non chiusa 2 catenelle non scusatemi una maglia alta 2 catenelle e di nuovo maglia alta e una maglia alta non chiusa archetto successivo stiamo per arrivare alla fine il secondo giro e di nuovo maglia alta non chiusa le chiude insieme rientro maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta sto per terminare il terzo giro quindi vado a fare l'ultima maglia le due maglie alte vado dove ho la prima maglia alta del ventaglio realizzo una maglia alta non chiusa vado dove oli della terza catenella e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiude insieme mi giro con la lavorazione vado a fare il mio terzo giro e vado a realizzare due catenelle che sono mia prima maglia alta non chiusa vado nella catenella sulla maglia alta successiva realizza un'altra maglia alta non chiusa e le chiude insieme vado la maglia alta del ventaglio e realizzo una maglia alta va dall'interno dell'archetto e quello che farò lo farò per tutto il terzo giro vado a fare due maglie alte una e rientro 2 2 catenelle rientro 2 maglie alte una 2 vado nella maglia alta del ventaglio e realizzo una maglia alta non chiusa salto le due maglie alte chiusi insieme vado la maglia alta del ventaglio e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiude insieme e si ricomincia ball nella cat e vado a fare due maglie alte una 2 2 catenelle rientro 2 maglie alte una 2 una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio quindi vado a fare una maglia alta non chiusa salto le due maglie alte chiusi insieme vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa e le chiude insieme e si ricomincia da capo 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle una 2 2 catenelle di separazione rientro altri due maglie alte una 2 una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta salto le due maglie alte chiusi insieme una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva e le chiude insieme e si ricomincia 2 maglie alte nell'archetto una 2 2 catenelle rientriamo 2 maglie alte una 2 una maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta scusate salto le due catenelle due le due maglie alte chiusi insieme una maglia alta non chiusa le chiude insieme e si ricomincia quindi bisogna andare a fare questo per tutto il terzo giro vediamo come terminare il terzo giro così ve lo faccio vedere quindi di nuovo devo andare a fare la maglia alta non chiusa sopra la maglia alta saltare le due maglie alte chiusi insieme di nuovo una maglia alta non chiusa le chiude insieme entro nell'archetto 2 maglie alte una due due 2 catenelle rientro 2 maglie alte una due ops e andiamo a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta una maglia alta non chiusa sopra la seconda una maglia alta chiuse non chiusa sopra le due maglie alte chiusi insieme e chiudiamo assieme abbiamo terminato così anche il terzo giro ci giriamo con la lavorazione andiamo a fare il quarto giro e di noi andiamo a fare due catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa vado nella prima maglia alta quindi salto le due maglie alte chiusi insieme devo fare un'altra maglia alta non chiusa le chiudiamo insieme e devo fare una maglia alta sopra ogni maglia alta entriamo nell'archetto di 2 catenelle e di noi andiamo a fare due maglie alte una due due catenelle rientriamo altre due maglie alte una due e a questo punto andiamo a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta del ventaglio una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta saltiamo le due maglie alte chiusi insieme andiamo nella maglia alta successiva andiamo a fare una maglia alta non chiusa e le chiudiamo assieme una maglia alta sopra la maglia alta successiva e si ricomincia da capo due maglie alte una due due catenelle rientriamo altre due maglie alte una due una maglia alta sopra la prima maglia alta Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva saltiamo le due maglie alte chiuse insieme andiamo a fare una maglia alta non chiusa è la chiudiamo insieme una maglia alta sopra la maglia alta e di nuovo due maglie alte una due 2 catenelle rientriamo due maglie alte una una maglia alta sopra la maglia alta una maglia alta sopra mai alta una maglia alta non chiusa sopra mai alta successiva saltiamo le due maglie alte chiuse insieme una maglia alta non chiusa la chiediamo insieme maglia alta sopra la maglia alta e si ricomincia da capo e dobbiamo andare a fare questo per tutto il quarto giro quindi vedete la nostra lavorazione sta crescendo vi farò vedere soltanto come terminare la quarta e io vi dirò che ho fatto ancora un altro giro di aumenti quindi per fare gli aumenti noi non faremo altro che andare a fare sempre 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte in ogni archetto di 2 catenelle e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare a quella prima delle due maglie alte chiusi insieme in quel caso facciamo la nostra maglia alta non chiusa saltiamo le due maglie alte chiuse insieme e andiamo a fare una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva unica cosa che noterete e che a differenza delle strisce di maglie alte qui ai lati qua e qua avremo una maglia alta in più questo l'ho voluto io per essere più sicura che la lavorazione e che nella giacca venisse un po più chiusa e non fosse troppo aperta quindi voglio terminare il giro per farvi rivedere appunto come terminare il quarto giro quindi maglia alta non chiusa salto maglia alta non chiusa chiude insieme di nuovo maglia alta e di nuovo 2 maglie alte una due due catenelle una due rientro ricordatevi io farò un altro giro di aumenti ma per una taglia è meglio consiglio di andare a fare almeno un altro giro di aumenti due giri di aumenti invece per una taglia l e quindi stiamo per terminare il giro vedete qui solitamente fatto una maglia e poi subito la maglia alta non chiusa qui invece faccio due maglie alte e poi maglia alta non chiusa vado due maglietti chiusi insieme e faccio un'altra maglia alta non chiusa e chiudi insieme quindi ci giriamo con la lavorazione ricominciamo da capo ora una volta per non far più gli aumenti andremo a fare in questa maniera sempre le due maglie le due catenelle sempre la maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta però a questo punto quando arriviamo nell'archetto di una catena di 2 catenelle andiamo a fare una maglia alta 2 catenelle rientriamo maglia alta e poi maglia alta sopra ogni maglia alta e maglia alta non chiusa prima di quelle delle due maglie alte chiusi insieme saltiamo le due maglie alte si ricomincia con una maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme quindi vi ripeto io nella mia lavorazione vera e propria sono andata a fare cinque giri di aumenti e poi non ho fatto più aumenti video quanti giri ho fatti senza aumenti per mettere i marcatori per una taglia è meglio consiglio di consiglio di fare un giro in più naturalmente si è stato usando un altro filato farne anche due giri in più taglia le due o tre giri in più di aumenti rispetto a me quindi per una taglia m vi fermate con gli aumenti al sesto o al settimo giro taglia l al settimo o all'ottavo giro e poi continuate senza più aumenti ricordandovi di andare a fare maglia alta 2 catenelle maglie alte invece che 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte e poi vedremo come continuare nel nostro spolverino allora ho terminato il mio sprone ho fatto cinque giri di aumenti e altri cinque senza aumenti vi ricordo che per poter non far più aumenti nell'archetto di 2 catenelle invece che 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte va fatta una maglia alta 2 catenelle una maglia alta in questa maniera io ho avuto uno sprone di circa 110 centimetri a questo punto quindi con 10 agili totali sono andata a mettermi marca punti a un'altra cosa lo sprone in altezza è di 16 centimetri quindi per me va bene per una taglia m io vi consiglio di fare lo stesso numero di giri di aumenti miei ma di fare almeno 32 giri in più prima di mettere marca punti ora per poter andare a mettere marca punti ho lasciato tre punte sono da contare le mie punte e ho lasciato tre punte per le maniche sia da questa parte che da quest'altra parte e invece qui ho lasciato due punte avanti e due punte avanti libere 6 dietro mettendo il marcatore quindi subito dopo le due punte avanti e dopo appunto le tre punte libere delle maniche per una taglia è meglio vi consiglio di mettere 4 24 punte avanti quattro punte scusate quattro punte per ogni manica e sul davanti tre punte il resto tutto dietro detto ciò quindi e taglia m io direi taglia l però stessa cosa quattro punte per le maniche e invece 4 34 punte per i davanti detto ciò quindi possiamo andare a far vedere come continuare la lavorazione per lavorare soltanto il corpo del nostro spolverino quindi io vado a prendere il mio uncinetto e continuiamo la lavorazione quindi io ripena lavorare tranquillamente il mio giro vado a fare sempre due catenelle che sono mia prima maglia alta non chiusa una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta non devo andare a fare aumenti quindi nell'archetto di una di 2 catenelle e andrò a fare sempre una maglia alta 2 catenelle e di nuovo una maglia alta quindi continuiamo a lavorare così fino ad arrivare al nostro marca potenti una volta arrivata a marca punti vi farò vedere appunto come passare dalla parte avanti alla parte dietro della nostro spolverino sono arrivata quindi a mia marca punti vedete qui ho la manica questa è la parte dietro questa è la parte avanti ma da lavorare in questa maniera tolgo marca punti per fare vedere meglio quindi prendo il filo entro sia nella ventaglia avanti che nel dettaglio dietro e vado a fare una maglia alta 2 catenelle rientro sia nella parte avanti che nella parte dietro e vado a fare il mio secondo la mia seconda maglia alta e poi vado a lavorare normalmente tornando dietro quindi vado dove ho la maglia alta del ventaglio la seconda non la prima e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla maglia alta prima delle mie due maglie alte chiusi insieme e a questo punto come sempre maglia alta non chiusa saltiamo le 2 maglie alte chiuse insieme andiamo sulla maglia alta successiva ma gli altri hanno chiusa e continuiamo così quindi per arrivare fino al secondo marcatore anche in quel caso vi farò vedere come passare dalla parte dietro di nuovo alla parte avanti sono arrivata al mio secondo marca punti come vedete qui alla manica questo dietro questo davanti e quindi andiamo di nuovo a toglierlo e a vedere come fare prendiamo il filo entriamo sia nell'archetto del dietro che nell'archetto del davanti andiamo a fare una maglia alta 2 catenelle prendiamo il filo di nuovo entriamo nell'archetto davanti e dietro riusciamo in quello davanti e andiamo a fare una maglia alta e poi andiamo direttamente nella maglia alta del ventaglio la seconda e non prima del giro precedente e torniamo a lavorare normalmente come abbiamo sempre fatto quindi in questa maniera abbiamo creato appunto le nostre maniche e stiamo realizzando il corpo della nostro del nostro spolverino e continueremo a lavorare sempre il giro quindi per tutto il corpo mi raccomando se avete necessità di fare gli aumenti gli aumenti fatele come abbiamo fatto nella parte iniziale quindi 2 maglie alte 2 catenelle e 2 magliate invece che in una io continuo a lavorare così non penso di andare a fare degli aumenti perché dietro è bello largo e avanti non lo voglio troppo largo quindi va benissimo così naturalmente però vi farò sapere quante giri sono andata a lavorare e ricordatevi che qui una volta in fatto realta a capo qui andremo a lavorare normalmente come abbiamo sempre lavorato qui e sotto lo scappo quindi quando torneremo qui qui andiamo a lavorare maglia alta 2 catenelle maglia alta dunque dagli scalfi fino a giù io ho ripetuto il moti il giro per 34 volte non ho fatto nessun aumento ho deciso di lasciarla dritta così come veniva quindi possiamo dire che la nostra giacchetta è terminata io non farò le maniche ma se volete fare le maniche non dovete far altro che andare a lavorare in tondo attorno alle maniche sempre lo stesso punto per vedere come si lavora in tondo vi consiglio di andare a vedere il vestito geranio che ho realizzato appunto qualche la settimana scorsa con cui ho fatto lo stesso appunto ma lavorato in tondo quindi se volete vedere come si fa la lavorazione in tondo potete andare a vedere quel video quindi anche questa creazione è terminata